Palla che torna nel campo della Lube, Deceppo vuole ancora Nikolov a Muro. Cerca la zona di conflitto Nikolov, Balasso, Takashi, la palla in campo. Tacca in campo Gianluca Galassi dopo la gestione di Stemmerman. Takashi, yes. A cercare Mara, aiutato dal netto, riceve bene il canadese, poi Zvark la difende Nikolov dopo il topo di Gian. Ed ora il muro di Mara. Mara caccioppa, arma Zvark dietro, tiene Muranzani, tele appoggia facile per Deceppo. Zaitsev, non passa l'attacco della Lube. Tiene bene Gaggini, attacchi in pipe di Mara, la palla è in campo. Ancora Mara, tenere poi Zvark. Caccioppa gira per Zvark, muro a uno, Marlojan. Zaitsev lo scontiene Lepki. Nikolov difeso da Mara. Poi il punto lo porta a casa. Minfero volle in Monza. Nikolov coperto il pallonetto da Caccioppa. Agguantata la Lube. Ehi, sti Gianluca Galassi. Ehi, sti Alex Nikolov. Inseppari. Si salva ancora grazie a Balasso la Lube. Zvark. Caccioppa arma il pallonetto. La palleggia molto bene Di Martino. Difende Balasso. Ancora Zaz. Ancora Jant e Muro. Su Marlo Jant. Muro di Martino. Cerca e trova l'Ace. Il norvegese della Lube. Si chiude il terzo set. Zani corta, c'è Giagaggini. Attacca in Pipe Mar. E va a segno. Attacca a Cino Sponda. Attacca Bottolo. E va a segno. Cambia e va a su Mar. Caccioppa. Primo tempo di Galassi. C'è Larizza. Attacca Takashi. E va a segno. Dececo su Takashi. Attacca in Pipe Mar. Gaggini. Attacca ancora Svark. Da difenda una mano. Dececo la goncia. Per Bottolo Muro. La cioppa armata di Martino. Difende ancora una volta Bottolo. La goncia. Difesa da Svark. Ci arriva anche questa volta. Monsa e Takashi va a segno. E Yank porta la lube al tie-break. Takashi attacca e va a segno. Monsa nella ricostruzione con Mar. Attacca di Martino. Bottolo a toccare. Poi la goncia a gestire quella pallaccia. Balasso e isti Takashi. Giotta per Balasso. Bottolo ci arriva. La palla è per Mar. Piazzata su Gaggini. Cacioppa. Vuole l'attacco di Takashi. Che out. Grazie per la visione.